Ospite di Domeneca Enimo, Marco Masini, famoso cantante per eccellenza, oggi il 26 settembre 2021. Ha raccontato l'atteso concerto all'Arena di Verona del 30 settembre, che ci sarà tra 4 giorni di tempo, per andare a festeggiare i suoi 30 anni di onorata carriera. Un appuntamento importante, un appuntamento che aspetta da molto tempo a questa parte e ci saranno importanti star della musica come Erna Meta, Francesco Renca, Vinegramaro e tantissimi altri. A Domenica In, Damara Venè è proprio il cantante che ha riproposto alcune delle canzoni più celebre del suo straordinario repertorio ed è rimasto piuttosto colpito dalla bellezza di Isai Barghieri da Bui, ospite pure del programma in questione a Domenica In. E' stato, diciamo così, un momento epico, perché proprio Marco Masini ha letteralmente colpito, o meglio, è stato letteralmente folgurato dalla bellezza e dalla sensualità di Margherita da Bui, che era vicino a lui mentre stava suonando e cantando al pianforte. Ha riproposto dei brani veramente straordinari, nonché sul blimbo Marco Masini, ed è rimasto incantato dalla bellezza di Margherita da Bui. E Mara Venè è proprio la stuzzicata, dicendo, ora vi lascio quasi quasi da soli. Sembra quasi che si fosse creato un momento intimo tra i due, tra Margherita e Marco Masini, che comunque non è passato di certi inosservatori ai più attenti che guardano la televisione ogni domenica. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate. Un cordiale saluto a voi e al prossimo video da vostro narratore italiano di YouTube Italia. E se dovete sapere cosa ne pensate proprio di Marco Masini e della bellissima Margherita Bui.